Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e oggi giocheremo ancora a Terraria. Allora, nello scorso video avevamo preso il nostro Life Crystal, vabbè l'abbiamo già preso, vedete, 120. Ora, scusate ma mi devo un attimo riabituare al gioco perché ho giocato un po' Minecraft in questi giorni, perché ho in mente di fare dei video e quindi ho perso un po' di manualità con Terraria. Allora, abbiamo preso nello scorso video il nostro evocatore dell'operitura. Espezione cacciatore, mi lagga un sacco e non so perché. Ok, direi che allora adesso andiamo qua, vediamo cosa possiamo... No! No! Spregalo, strassalo. Eccoli qui. Sbarra d'argento... 12. Sbarra di ferro tantissime. E direi che quindi adesso possiamo anche pensare di farci la nostra bella aromatura di ferro. Poi mettiamo posto il nostro pietruccio. Ok, facciamo un accumulo veloce. Sbarra ancora. No, a parte che ormai il rame non ci serve più. Perché stiamo andando così sotto. proprio oggi dovrebbe arrivare l'infermiera una moneta d'oro non ho stato un moneta d'oro non possiamo farcelo tutto ecco però almeno allora questo qua qua questo qui direi invece allora di prenderci questo facciamo così ok questa ce la togliamo quindi abbiamo quanto? 9 di difesa 9 di suicides 9 di 16 10 15 15 15 15 15 15 15 Torcio viola Ah no Facciamo così Atmosfera più bella Poi quella cosa quale metteremo a posto meglio Ok Allora adesso voglio Voglio No no non Volevo ma dai non agli stick Agli stick Niente volevo comprare gli stick da lui ma non ce l'ho Ora Volevo Iniziare a scavare sotto casa C'è una bella cosa Una bellissima cosa Uno e una due Ecco Come sapete come si aspettava È arrivata l'infermiera Perché quando ci si allontana un po' dalla casa automaticamente viene un pc Quindi l'infermiera tua cascetta È questa Qui No scopera E' un'altra qua E' un'altra qua E' un altro qua Buon E' un altro che scemo Ah no ok Comunque Illuminato E' un altro qua Illuminato Appena avremo 8 gold voglio prendermi dal mercante il coso per le miniere, che è molto carino. Direi che taglio un attimo e appena trovo una grotta riprendo. Eccoci qui finalmente ragazzi, in una grotta. Ho dovuto scavare parecchio per riuscire a trovare una grotticuella. Si fa abbastanza schifo questa grotticuella. Adesso prendiamo tanto ferro, sia per finire l'armatura che tanto ormai credo che ce la faremo in argento se riusciamo. Però soprattutto perché così ci facciamo il piccone, ad esempio in ferro. Quanto gli odio sti vermi. Ah, l'ho notato soltanto adesso. So che la luminosità si è ristabilita senza aver fatto niente e così è veramente molto meglio rispetto all'ultimo video che è verso la fine. Però ho cambiato la luminosità e faceva abbastanza capare. Ora andiamo a prendere il ferro, 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 ferro. Come potete sentire dalla musichetta, siamo sul confine tra il sottosuolo e il mondo normale. Ecco tu, la mia brutta grottura, tu vuoi scendola, è già finita. Allora scaviamo giù lì. Se non trovo una brutticella al veloce. Direi che questo video è anche tutto. Allora? No, se avevo una bomba già ti trovo giù. Allora committura, ci sono i giochi. Allora, si dice così credo si dice così ok 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 trucciullo ragnatele 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 1 aspettate un attimo costato il telefono eccoci di nuovo ragazzi mi hanno chiamato il telefono scusate ho dovuto stoppare un attimo io non mi fido tanto allora direi che per questo video è tutto e ciao ciao